Sono otto i riminesi accusati negli ultimi quattro anni di aver offeso vigili urbani nello svolgimento delle loro attività. Sei di questi hanno deciso di risarcire le parti offese con una somma di denaro mentre per gli altri è tuttora attivo il procedimento di fronte al GIP. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha accettato la proposta di risarcimento dell'ultimo cittadino in ordine cronologico che aveva oltraggiato un agente in servizio nel 2017. Non sono in tanti nel circondario a oltrepassare il limite della dialettica di fronte a una divisa della municipale, una media di un paio all'anno. Quella rabbia è scatenata il più delle volte dopo una sanzione per divieto di sosta. Un episodio si è verificato durante un controllo ad un pubblico esercizio e anche lì la discussione ha presto assunto toni denigratori. L'oltraggio pubblico ufficiale è un reato disciplinato dall'articolo 341 bis del codice penale. A seguito della notizia di reato l'accusato può fare proposta di risarcimento con una somma che va da 500 a 1000 euro. L'agente offeso può accettarla o respingerla. Nel primo caso il comando sottopone la proposta alla giunta e se approvata si va verso l'estinzione del reato. Nel secondo invece si procede in tribunale di fronte ai giudici. Fortunatamente si tratta di sporadiche situazioni, commenta l'assessore alla polizia municipale Jamils de Golvad che rimangono comunque spiacevoli, dice, perché coinvolgono agenti quotidianamente impegnati in attività per la comunità.